Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo nuovamente su Final Fantasy XVI perché si continua a cacciare. Stanno finendo probabilmente le cacce, non ho ancora idea di come sia strutturato l'endgame delle cacce, sinceramente parlando. Però, per quanto riguarda la nostra situazione attuale, siamo praticamente verso la fine, perché sto notando che tutto il pannello è pieno di creature. Ne dobbiamo affrontare una, tra l'altro, per completare una side quest. Quindi c'è una sorta di caccia obbligatoria. Ecco, vedete, per esempio l'avvistamento del molboro. Ho sentito dire che tuo fratello non ama le carote, cupo. Se ogni carota di rosaria è come quella dell'avviso, appena affisso in bacchia posso capire perché, cupo. Ecco, a quanto pare abbiamo praticamente finito, perché sono tutti, cioè sono le ultime. Quindi dobbiamo cominciare qua con il branco, addirittura a difficoltà C. Una squadra di spezza maledizioni in viaggio da Tabor, verso i campi di Korava, è stata accolta da un gruppo di cacciatori del villaggio, che li ha avvertiti di non allontanarsi troppo dalla strada principale, poiché in una gola non lontano da lì riposava un branco di lupi che nemmeno cacciatori così esperti avrebbero osato svegliare. Sebbene le pelli di quegli animali così lucenti e pregiate fossero un forte richiamo, troppi dei loro amici avevano ceduto alla tentazione, solo per finire dilaniati arto dopo arto. Ok, quindi a sud di Tabor, verso i campi di Korava. Quindi sud di Tabor, verso i campi di Korava. Tabor si trovava... no, questo è Drazor... Tabor non ricordo sinceramente ora dov'era, perché mi troppo troppe città. Questa è la via dorata, Tabor, eccola qua. Quindi se io vado, ecco, verso i campi di Korava, quindi probabilmente sarà qui, in questa specie di fossa. Sarà qui probabilmente. Perché da Tabor, verso i campi di Korava, qui c'è la gola che probabilmente ci farà da riferimento per questi lupi. Molto probabilmente sì. Quindi va bene. Vado a fare strada e ci vediamo nel momento in cui troveremo questi lupacchiotti. Eccoci qua. Forse sono loro? Non so se sono loro, però come potete notare sono praticamente nella zona che avevo descritto poco fa. Ma credo che siano loro. Sì, sono esattamente loro. Classica presentazione di una caccia. Il branco. Grado C, quindi in teoria non dovremmo avere grossa difficoltà. In teoria. Ma donna mia. Poi sono a livello di 33 addirittura, quindi va bene. Dici sì, vanno attaccato. Erano aggressivi, però... Cioè, fondamentalmente parlando, non sono un granché dal punto di vista, diciamo, del combattimento. Quindi... Cosa ci danno? Niente. Quindi... Non dovevano toccare il capobranco, eh? Niente. Molto, molto easy in realtà questa caccia. Per cui va bene. Siamo praticamente a sud di Tabor, nella zona Via Dorata. E come potete vedere, qui c'è questo spiazzale dove è possibile trovare questi lupi. Molto semplice come caccia, quindi... Alla prossima. Molto semplice. Grazie.